primi richiami per le vaccinazioni anti covid 13 nuovi positivi a pesaro prosegue l'operazione di screening marche sicure che arriva a valle foglia e gradare scuole superiori la regione pensa al rientro anticipato degli studenti lo sport delusioni e sconfitte per i tal service vis pesaro e carpegna prosciutto basket una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre e bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale rossini news subito in apertura parliamo della campagna di vaccinazione nel territorio di pesaro e urbino perché ieri sono stati effettuati i primi richiami per i primi dipendenti di marche nord che si erano sottoposti all'inoculazione della prima dose del vaccino pfizer lo scorso 27 dicembre nel primo servizio parliamo anche dei dati aggiornati riguardanti il covid nella regione marche la campagna di vaccinazione anti covid 19 prosegue anche nelle marche dove nella giornata di ieri sono stati effettuati i primi richiami per il personale dell'azienda ospedaliera marche nord che poco più di 20 giorni fa si era sottoposto alla prima dose del vaccino tra i sanitari presenti c'era anche la dottoressa margherita lambertini medico del pronto soccorso che durante il simbolico vax day dello scorso 27 dicembre aveva ricevuto per prima l'inoculazione del siro pfizer se per circa una ventina di dipendenti marche nord il percorso è quindi terminato tanti altri sanitari si apprestano già a partire da questa settimana ad effettuare il richiamo la campagna di vaccinazione quindi non si ferma e nella giornata di ieri sono stati più di 400 i medici infermieri e altri operatori che si sono recati all'ospedale di muraglia per essere vaccinati è stato inoltre confermato che le marche rientrano nella lista delle poche regioni in italia che non saranno soggette ad una riduzione della consegna delle dosi del vaccino pfizer la casa farmaceutica infatti annunciato nei giorni scorsi un taglio delle forniture previste per l'italia ma per quanto riguarda il territorio marchigiano è già stato confermato l'arrivo delle oltre 10 mila dosi settimanali previste sempre per quanto riguarda l'ospedale marche nord entreranno in funzione a breve altri 17 posti letto di terapia intensiva che si vanno ad aggiungere ai 14 attivati a fine dicembre e ad altri 12 dedicati alla terapia semi intensiva come ricordato dal vice presidente della regione marche mirco carloni che attraverso il suo profilo facebook ha mostrato l'avanzamento dei lavori nei nuovi locali della palazzina f nel frattempo il servizio sanità della regione marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2340 tamponi 1454 nel percorso nuove diagnosi di cui 984 nello screening con percorso antigenico e 886 nel percorso guariti con un rapporto di positivi testati pari al 10,8 per cento numeri in calo come ogni inizio settimana basso quindi anche il numero di positivi nel percorso nuove diagnosi che a livello regionale ha riscontrato 157 casi 13 di questi appartenenti alla provincia di pesare urbino ancora alto invece il numero delle vittime nel territorio marchigiano nella serata di ieri sono stati notificati 11 nuovi decessi legati al covid uno di questi un uomo di 89 anni era residente nel pesarese e continua anche marche sicure l'operazione di screening di massa voluta dalla regione marche che da questo fine settimana è attiva anche a valle foglia e gradara dopo pesare fano sabato mattina è partito anche a montecchio lo screening di massa promosso dalla regione marche grazie al quale i cittadini possono sottoporsi gratuitamente al tampone rapido il palavitri ospiterà fino a giovedì mattina i residenti di valle foglia monte labate monte calvo in foglia e petriano buona l'affluenza già nella prima giornata di attività come spiega il sindaco di valle foglia palmiro occhielli il tampone ho visto grandissima parte compreso il mio tutti i negativi è un fatto importante perché valle foglia aveva avuto un picco abbastanza importante fino a circa 140 contagi sono ridotti ad 83 un altro calo di 10 anche nella giornata di ieri sono partiti i tamponi con diciamo una buona partecipazione stamattina si va da oggi fino al 21 e si approfitta anche di quelli che vengono al mercato che giovedì prossimo quando è il giorno conclusivo fino a luna perché magari quando hanno fatto il mercato vanno a fare anche il tampone o i genitori che vengono a portare i figli a scuola così vanno a fare anche il tampone qui come si sa vengono i comuni di montellabate vallefoglia la parte bassa di tavuglia e petriano e monte calvo quindi c'è un bello flusso di gente comandata come mai ha scelto di venire per avere una soddisfazione personale no va bene 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 andata benissimo non ha fatto neanche male bene bene è quella che ci vuole anche per star più tranquilli ho scelto di aderire innanzitutto perché siccome sono un commerciante sono sempre tra la gente quindi alla prima occasione ho profittato per fare questo controllo che non avevo ancora neanche mai fatto insomma non ero stato chiamato e non ho mai fatto l'iter è scorrevole funzionale è bello organizzato se non arrivi col foglio compilato te lo compili lì è una cosa cinque minuti insomma via poi c'è il quarto d'ora di relax in attesa dell'esito benissimo tutto molto bene grazie all'organizzazione grazie a tutti ritorno al mio lavoro sapendo di essere un negativo quindi per il momento è viva la vita è viva il 2021 l'esito è stato negativo quindi va bene e niente mi ha mandato su whatsapp la michaela vitri che questa mattina facevano il tampone quindi me la sono sentita divenire perché volevo sapere il risultato tutto qui andata bene negativo perché sì se è negativo uno esce subito si fa abbastanza presto tutto è stato abbastanza veloce molto ben organizzato circa un quarto un quarto d'ora ho fatto tutto sempre fino a giovedì l'operazione marche sicure andrà avanti anche per i residenti dei comuni di gabice mare gradara e tavullia che potranno effettuare il tampone rapido presso il palazzetto dello sport di gradara anche per questi tre territori l'attività di screening è iniziata lo scorso sabato i tre sindaci dei comuni interessati domenico pascuzzi per gabice mare filippo gasperi per gradara e francesca paolucci per tavullia si sono sottoposti al test per invitare la cittadinanza a seguire il loro esempio e come riferito dal presidente della regione francesco acquaroli l'operazione di screening marche sicure avviata lo scorso 18 dicembre ad un mese dalla sua attivazione ha permesso di rintracciare sull'intero territorio regionale quasi mille positivi completamente asintomatici a questi numeri va aggiunto il tracciamento conseguente nei confronti dei contatti stretti e parliamo ora di cronaca perché continua l'attività della squadra mobile della questura di pesaro urbino volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti ad essere fermato nelle scorse giornate è stato un giovane ragazzo sul quale gli agenti durante le fasi di controllo hanno dovuto effettuare manovre fisiche per indurlo a espellere le cinque dosi di eroina che teneva nascoste in bocca e la cui ingestione poteva rappresentare un serio rischio per la sua salute insospettiti da quanto accaduto gli investigatori hanno accompagnato il giovane in ospedale per ulteriori accertamenti che hanno portato a rilevare la presenza di altri cinque involucri nello stomaco del ragazzo e di altri tre nel retto 35 grammi complessivi di eroina contenuti negli ovuli il giovane è stato poi arrestato e la sentenza è stata convalidata dal gip parliamo ancora di cronaca perché i carabinieri della stazione di colli al metauro hanno tratto in arresto per furto aggravato di autovettura un 33enne del posto di origini lettoni che nella giornata di sabato poco dopo mezzogiorno ha sottratto una mercedes classe a ad un'ignara ragazza intenta fare la spesa il furto è avvenuto nel parcheggio del supermercato re mercato sulla via flaminia nella frazione lucrezia di cartoceto e il ladro è stato rintracciato dagli agenti all'interno di un bar poco distante dal luogo dell'accaduto in possesso delle chiavi del mezzo ritrovato fuori dal locale il 33enne è stato dichiarato subito in stato di arresto e stamane si è svolta l'udienza di convalida nella quale è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e di 300 euro di multa in primo piano anche la scuola perché anche nelle marche potrebbe essere anticipato a lunedì prossimo 25 gennaio il rientro in classe degli studenti delle scuole superiori sentiamo i dettagli in questo prossimo servizio la riapertura delle scuole superiori torna ad essere tematica centrale nel dibattito pubblico dopo le osservazioni effettuate dal comitato tecnico scientifico il quale si è espresso favorevolmente sul ritorno in classe degli studenti delle superiori il presidente della regione marche francesco acquaroli aveva firmato un'ordinanza che segnava lo slittamento della ripresa delle lezioni dal vivo e confermava l'utilizzo della didattica a distanza fino alla fine del mese ordinanza che come affermato dallo stesso acquaroli e a seguito delle decisioni dei governatori di altre regioni potrebbe essere rivista per anticipare a lunedì 25 gennaio il rientro in aula dei ragazzi il problema è che non sappiamo l'effetto che si va ad avere nella messa in movimento rimessa nelle strade nelle piazze di tanti di una massa importante di persone di tantissimi ragazzi e di tantissime famiglie che accompagnano questi ragazzi presso gli istituti scolastici è stato un effetto di precauzione e su questo vi posso anticipare come già era scritto nell'ordinanza che se l'andamento della curva rimarrà con l'RT sotto a 1 anche nella prossima settimana e se l'andamento della curva dei numeri della settimana di questa settimana sarà confermato nella prossima settimana credo che noi potremo pure pensare ad un provvedimento che vada ad anticipare il rientro in presenza al 50 per cento delle scuole superiori tutto sta nei numeri tutto sta nelle situazioni oggettive tutto sta nel verificare giorno dopo giorno quella che è la situazione reale i presidi si dicono pronti per la riattivazione delle lezioni in presenza al 50 per cento anche se come sottolineato dai dirigenti scolastici delle scuole superiori del territorio tra cui quello del liceo scientifico e presidente regionale dell'associazione nazionale presidi riccardo rossini sono necessarie diverse operazioni per garantire il massimo livello di sicurezza all'interno delle scuole in primis il tracciamento dei casi positivi e una ripetuta attività di screening e controllo mediante i tamponi rapidi altra arma di fondamentale importanza risulterebbe essere una rapida chiamata per le vaccinazioni anti covid 19 di tutto il personale scolastico professori e collaboratori over 40 la volontà di tornare appena possibile tra i banchi è strettamente connessa alla preoccupazione per quanto riguarda l'abbandono scolastico che negli ultimi mesi ha registrato numeri in crescita anche negli istituti del nostro territorio ad ogni modo a rimanere determinanti saranno i numeri dei casi positivi registrati in regione il monitoraggio dei dati relativi ai nuovi contagi di questa settimana permetterà al governatore e alla regione di confermare il ritorno anticipato degli studenti tra i banchi oppure di continuare con la didattica a distanza fino alla fine del mese ed è stato un esito fortunato quello della prima edizione digitale del salone dello studente nella regione marche dopo le 6.000 presenze registrate all'ultima edizione dal vivo che si è tenuta due anni fa a pesaro la prima versione online ha segnato 20.000 contatti nell'edizione appunto iniziata lo scorso 11 gennaio e terminata ieri gli allunni sono stati circa 17.000 dei quali circa il 70 per cento marchigiani a cui si aggiungono circa 2.500 fra docenti e altri visitatori e parliamo ora di io apro la manifestazione nazionale che tra i promotori ha visto anche l'imprenditore pesarese Umberto Carriera che lo scorso venerdì ha deciso di tenere aperto il suo locale di Monbaroccio servendo la cena a circa 30 clienti tra cui anche il parlamentare Vittorio Sgarbi è stato in ristorante la grande bellezza di Monbaroccio il locale da cui è partita l'iniziativa io apro lanciata dall'imprenditore pesarese Umberto Carriera che come altri ristoratori di città e regioni diverse ha deciso di tenere aperta la propria attività anche dopo le 18 infrangendo quindi le limitazioni imposte dal governo presenti alla cena che inizialmente si pensava avesse luogo presso la macelleria, altra attività di carriera, circa una trentina di persone tra cui anche Vittorio Sgarbi. Prima di entrare all'interno del locale il parlamentare si è duramente scagliato contro le restrizioni dei DPCM. È evidente che se noi procedessimo nei teatri, nei cinema, nelle scuole, nelle assemblee comunali a Montecitorio con i sanificatori avremmo la certezza che il Covid non si diffonde vorrei sapere dove si diffonde, c'è un luogo dove si diffonde, in casa. Quindi io denuncio il governo per una totale azione criminale e assassina contro i cittadini. Qui lo Stato è uno Stato criminale e costringere a chiudere, a non lavorare perché non si sanificano i luoghi è una cosa che io non riesco a capire su cui vorrò che il Parlamento risponda. Si è fatta la cena, sono quasi tutti al dessert e a breve insomma torneranno a casa perché è quasi l'ora del coprifuoco. Sgarbi è ormai diventato un amico, mi aveva promesso che mi avrebbe appoggiato in questa battaglia e si è presentato con i suoi erari ovviamente, però si è presentato. I clienti sono qua consapevoli e consci che questa è una battaglia, sono qui come clienti, sono qui come sostenitori. Io credo che questa non debba essere una preoccupazione perché la battaglia che facciamo va oltre i 400 euro. La serata si è conclusa con l'arrivo delle forze di polizia che hanno imposto la chiusura del ristorante per cinque giorni, insieme alla multa di 400 euro destinata al titolare. Sanzionati ed identificati da vigili e carabinieri anche i clienti che hanno preso parte alla serata, alcuni dei quali hanno violato anche l'orario del coprifuoco. All'indomani dell'iniziativa non si è fatta attendere la replica del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che riferendosi all'evento ha parlato di grande flop, una protesta che non ha avuto seguito in città e che ha dimostrato come i ristoratori pesaresi abbiano rispettato le leggi. Critica anche la posizione del direttore della Confcommercio di Pesaro Urbino, Amerigo Varotti, il quale ha definito l'iniziativa un fallimento totale, sottolineando poi la serietà dei ristoratori e dei titolari dei pubblici esercizi che, nonostante le gravi difficoltà economiche, si sono dimostrati rispettosi della legalità. Apriamo ora la pagina delle segnalazioni di Rossini TV perché sono diversi i telespettatori che, a distanza di poche settimane dal primo avviso, hanno denunciato la mancata rimozione o sistemazione del palo situato al porto di Pesaro, che risulta essere a terra ormai da diverso tempo. Rispetto alle settimane passate, l'area dove è riversa la struttura è stata delimitata da alcuni nastri di sicurezza. Diversi sono i frequentatori della zona che tornano quindi a chiedere di poter sistemare la situazione. E vi ricordiamo di inviarci messaggi, foto o video per denunciare tutte le situazioni che secondo voi non vanno in città, contattandoci al nostro numero WhatsApp 370-366-7210. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo ora a Pano perché sono stati presentati questa mattina i dati finali della Digital Edition del Natale che non ti aspetti, l'iniziativa coordinata dalle proloco di Pesaro e Urbino che quest'anno a causa del Covid si è reinventata e proposta al grande pubblico attraverso il web e i social. Il servizio è di Simone Celli. 50.000 accessi al sito, 60.000 persone raggiunte attraverso i social e oltre 1.000 nuovi like sulla pagina Facebook. Numeri davvero enormi ottenuti proprio nell'anno più complicato. C'è aria di soddisfazione alla luce dei dati della Digital Edition del Natale che non ti aspetti, coordinata dalle proloco di Pesaro e Urbino e promossa insieme alla Regione Marche, alla provincia stessa e in collaborazione con la Confcommercio Pesaro-Urbino Marche Nord. Tante le idee messe in campo dall'8 dicembre al 6 gennaio, da Rosso Speranza, l'evento di apertura che ha illuminato di rosso 25 comuni della provincia, fino al Babbo Natale digitale in diretta social dalla sua casetta, senza dimenticare le iniziative enogastronomiche e quelle finalizzate alla promozione del commercio locale. In sole quattro settimane sono stati dunque più di 110.000 agli utenti totali che hanno seguito gli appuntamenti online da tutta Italia, ma anche da Svizzera, Stati Uniti, Germania, Spagna, Francia e persino dagli Emirati Arabi. Grande attenzione anche da parte delle TV nazionali, ben 30 ai servizi realizzati con la Befana di Urbania sempre particolarmente gettonata. Quindi un anno complicato però con dei grandissimi numeri. Numeri inaspettati, 110.000 contatti non ce li aspettavamo, insomma un grande risultato per il Natale che non ti aspetti, oggi in conferenza stampa la presenza della Regione Marche, la presenza del Comune, dell'assessore al turismo del Comune, del Proloco delle Marche che confermano e che tutti a gran voce chiediamo l'appoggio della Regione Marche per questo progetto. è un progetto straordinario che ha visto la realizzazione dell'edizione digitale del Natale che non ti aspetti, dove siamo partiti con l'albero di Mondolfo a chiusura con la Befana di Urbania, uno straordinario successo che sinceramente non ci aspettavamo. E tutto questo è dovuto grazie al grande lavoro dei tanti volontari che si sono dati da fare, che si sono impegnati sul territorio e questa è la dimostrazione dell'importanza del volontariato e delle Proloco nella nostra Regione Marche, nella nostra provincia. Questo qui è l'anno in cui l'essere in rete si è dimostrato veramente la carta vincente. Ma quest'anno bisognava essere resilienti, cioè cercare di mantenere l'attenzione sui propri progetti e fare in modo che anche a livello nazionale comunque continuiamo ad essere recepiti. Il progetto del Natale che non ti aspetti è un progetto che è cresciuto tantissimo in questi anni, che ha dato la possibilità alle città e ai borghi di investire e far sì che tutto questo risplendesse a livello nazionale. Quindi un progetto ben riuscito e ben concepito. Ecco, quest'anno ovviamente non si potevano portare persone nei borghi, non si potevano fare determinate attività, ma c'è stata un'intelligenza, quella di utilizzare il digitale per cercare di mantenere l'attenzione sul progetto, far sì che il prossimo anno quando ripartiremo e dobbiamo ripartire subito forte, insomma le persone abbiano in mente già che questo progetto non sia mai fermato. E quindi devo fare veramente un plauso all'UMPLI provinciale, ma a tutte le proloco che si stanno dedicando alla valorizzazione delle città, dei borghi e di tutto il nostro territorio provinciale. Come regione abbiamo deciso di contribuire a questa importante iniziativa perché rappresenta una continuità con il passato nonostante il Covid. Io ci tengo a ringraziare tutti i volontari, tutte le proloco e la proloco di Peso Rubino, il presidente Damiano Bartocetti, perché hanno fatto un lavoro straordinario nonostante il Covid. Mi auguro il prossimo anno di tornare in presenza e naturalmente di contribuire con il contributo, passatemi il termine, però con un contributo anche costante negli anni in modo tale che si riesca anche a programmare meglio l'attività di tutte le singole proloco. E come ogni lunedì spazio nel nostro telegiornale anche allo sport per i risultati dei match delle squadre pesaresi che si sono tenuti in questo fine settimana. Risultati che però raccontano di diverse sconfitte per Italservice, Vispesaro e Carpegna Prosciutto Basket. Quello appena trascorso è stato un weekend nero per lo sport pesarese. Con le squadre locali che hanno incassato sconfitte in casa e in trasferta. Partendo con il calcio a 5 è stata una vera batosta quella del Italservice Pesaro, che ha terminato la sua gara in Champions League uscendo sconfitta dal match contro la Futsal Assess alla Teddy Arena di Parigi. I biancorossi, costretti a fare a meno di Taborda praticamente per tutto il match e di Borruto, espulso all'intervallo, sono caduti per 10 a 9 i calci di rigore contro i padroni di casa. Non è mancato però l'affetto dei tifosi biancorossi, che hanno accolto la squadra al suo rientro in città. Passando al calcio è stata una vittoria mancata anche quella dell'Alma Juventus Fano, che nell'incontro casalingo contro il Gubbio si è dovuta accontentare di un pareggio. Uno a uno il risultato finale dell'incontro, commentato da mister Flavio Destro. Credo che i ragazzi hanno fatto veramente bene, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro e a momenti alla fine rischiamo anche di perderla. Ma c'è stata una grande reazione, una buona gara da parte di tutti, faccio i complimenti ai ragazzi per tutto. Questa è la strada che dobbiamo continuare a fare. Incontro da dimenticare anche per la Vispesaro, che ha perso per 1-0 sul campo del Sud Tirol, arrivando alla sua terza sconfitta consecutiva. È stata una buona partita, è giocata bene, siamo stati equilibrati. Purtroppo abbiamo fatto una serie di errori sul gol che poi ha pregiudicato un po' l'incontro, però fino a quel momento nonostante affrontassimo le squadre più forti del girone, abbiamo giocato alla pari. Con un pizzico di fortuna potevamo portare a casa un risultato positivo. Nella ripresa, dopo aver preso il gol, abbiamo perso un po' le distanze e lì subentra la voglia di ribaltare subito, di riprendere subito il risultato e abbiamo lasciato un po' più spazio al Sud Tirol. È un peccato perché appunto, come avete detto, il primo tempo è stata una partita molto equilibrata in un campo molto difficile contro una squadra forte. Dai centrocampisti che sono usciti piatti, da quello che abbiamo fatto crossare, abbiamo fatto un gol da un cross anche oggi. È normale che poi le occasioni successive della del Sud Tirol, se fosse stato 0-0 sarebbe venuto perché poi perdi un po' di equilibrio con la voglia di andare in avanti, qualche spazio lo lasci. È un peccato perché eravamo di qua a fare questa partita, il primo tempo è stato un buon primo tempo, abbiamo avuto anche noi le occasioni. Purtroppo per le nostre disattenzioni ci stanno costando caro. Anche per il basket i festeggiamenti sono stati rimandati. La Carpegna-Prosciutto-Pesaro non è tornata con i due punti dalla trasferta di Sassari. Il match della sedicesima giornata di Serie A è andato al Banco di Sardegna, che ha battuto i pesaresi per 99,74. Assenti sul campo gli infortunati Massenat e Delfino insieme a Tambone, risultato positivo al Covid-19. Solo fare complimenti al Sassari per una vittoria strameritata, hanno avuto molto più energia, molta più attenzione e hanno vinto con pieno merito. Da nostra parte, mi dispiace dire, ma oggi è stato solo prolungamento, una giornata scarsissima da ieri dove dovevamo partire, non partire dove è azzurro, non ci ha permesso partire, dove qualcuno ha detto che dobbiamo andare. Un casino vero, ma non ci sono le scuse perché per me è una vergogna che in una partita così l'unico giocatore che finisce con quattro falli e basso, che ha giocato meno sul campo, poca energia, poca attenzione, ma andiamo avanti. Dimentichiamo questa partita, facciamo analisi e ci prepariamo per la prossima contro Cantù che è straimportante per noi per la salvezza. E questa era davvero l'ultima notizia del nostro telegiornale. Questa sera, in prima serata su Rossini TV alle 21.15, un nuovo appuntamento con palcoscenico Marche che racconterà del conventino dei serviti di Maria di Monte Cicardo. A seguire poi alle 21.30 un nuovo appuntamento con le repliche del documentario a cura di Gastone Mazzanti, le stelle continueranno a brillare, che racconta Pesaro negli anni dal 1935 al 1945. L'appuntamento con l'informazione torna invece puntuale domattina in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa e la lettura dei quotidiani locali. In diretta quindi alle 7.20 e poi le repliche alle 8.15, alle 11.20, alle 12.30, alle 14 e poi alle 18.00. Grazie per averci seguito anche in questa edizione del nostro telegiornale ed auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV.